Insieme a Tivaio L'attuale è salvo La qualità sono rigidissime Dai, dai, Presidente Questa è la tua azienda 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 Grazie a tutti. 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 E beh sì. Se lo facciamo passare... Siamo troppo tardi. Siamo troppo tardi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi siamo contro luce. un metro un po' più indietro di tutte quelle realtà produttive che creano lavoro nel sud nello specifico stabilimenti di aziende partecipate dello stato ma hanno solo una grande funzione industriale nel mondo in Italia ma hanno anche una grande funzione sociale per mantenere i posti di lavoro e farli crescere e la sinergia tra lo stato e le sue aziende partecipate le aziende dell'indotto i piccoli e medi imprenditori creeranno sempre più opportunità di occupazione questo è l'impegno sono ministro del lavoro dello sviluppo economico il mio obiettivo e il dovere per i cittadini è creare lavoro crearlo sempre più stabile e questo si può fare se c'è partnership tra lo stato i privati e coloro che portano avanti insediamenti industriali importanti come questo qui quindi sono venuto qui prima di tutto per testimoniare tutta la mia collaborazione con realtà come queste tutta la volontà di farle crescere e con un occhio specifico al sud Italia per far crescere anche il nord perché il nord non ce la può fare a tirare da solo se non risolviamo la questione delle regioni del sud e la questione e i problemi delle regioni del sud passano per realtà d'eccellenza come questa e ci fanno grandi nel mondo Leonardo è uno delle realtà industriali del paese che è anche ambasciatore dell'Italia al mondo e soprattutto in uno stabilimento come questo produciamo uno di quei prodotti che poi arriva in tutti i paesi del mondo e che si sta affacciando ai mercati del resto quindi il lavoro mio sarà quello di essere presente di collaborare e di migliorare ovvero possibile lo sviluppo di stabilimenti come questo soprattutto nel medio di Italia Ministro ha un significato il fatto che ha cominciato da una realtà produttiva positiva e non piuttosto da una realtà in crisi cioè viene in mente per esempio l'ilba di tanto doveva andare lì per il suo io mi interesserò a tutti i dossier ed è chiaro che ci stiamo lavorando non dal giorno dopo la fiducia ma dal giorno prima della fiducia in Parlamento io sabato ho chiesto di aprire subito le porte del Ministero stiamo affrontando tutti i dossier delle crisi industriali e è chiaro che questo è un esempio di modello che funziona e che può funzionare ancora meglio sempre di più con l'aiuto anzi con il supporto dello Stato e del governo poi ci sono tante realtà in sofferenza nel sud come nel centro come nel nord di sofferenze ne vedo tantissime ieri sera una persona è venuta a cospargersi di benzina sotto casa mia un operario che ha perso il lavoro per la sentenza della colpa di cassazione e sono andato a trovarlo in ospedale e gli ho detto per ora è la mia vicinanza umana per un copra è anche la vicinanza che un governo vogliamo di tutti i stagini ci occuperemo di tutti i dossier della crisi, delle realtà in crisi lo faremo con responsabilità e senza annunci su queste varie questioni si agisce e si annuncia per quanto riguarda invece realtà come queste qui c'è tanto di quello che può essere un modello di sviluppo delle regioni del sud e dobbiamo continuare a farle crescere con un governo che rema nella direzione delle politiche industriali e non contro o in maniera neutrale quindi tifiamo per realtà come queste e se gli italiani tifano per il nostro governo tutti quanti insieme possiamo creare più occasioni di lavoro per tanti giovani ma anche meno giovani perché la persona che ha perso il lavoro ieri è venuta sotto casa mia che può spaggersi di benzina a oltre 55 anni e questa è una generazione che ha seri problemi a trovare lavoro e sono persone a cui dobbiamo star vicini perché hanno figli a casa e addirittura in alcuni casi hanno anche nipoti da sostenere Ministro, i fondi europei verranno gestiti dal Ministro per il Mezzogiorno? Queste li vedrete dalla collaborazione che porteremo avanti tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il gruppo Leonardo e la governanza di questo Stato I fondi europei verranno gestiti dal Ministero per il Mezzogiorno oppure dagli affari europei? No, i fondi per la coesione territoriale sono fondi che riguardano quando riguardano il Mezzogiorno saranno gestiti dal Ministro per il Sud il Ministero per il Sud è il ministero con la delega alla coesione territoriale la Ministra Barbara Lezzi è la persona che si occuperà di affrontare l'annosa questione di come si spendono i soldi europei soprattutto perché l'Italia ha sì un problema di investimenti ma anche dove si sono dati fondi per gli investimenti quei fondi sono blocchiati perché molto spesso agli enti territoriali bisogna fornire più competenze più personalità con specifiche competenze in determinati settori per poter utilizzare quei fondi e su questo però dico pure una cosa per far sviluppare l'Italia per migliorare le condizioni soprattutto di regioni in difficoltà come quelle del Sud si devono fare gli investimenti ma per fare gli investimenti dobbiamo semplificare il codice degli appalti perché ormai gli amministratori hanno paura di toccare qualsiasi delibera qualsiasi atto anche una votazione in consiglio comunale sta diventando un problema perché è un codice complicato, illegibile e che paradossalmente era stato scritto per diminuire la corruzione e oggi sta bloccando il paese e non sta combattendo i corrotti ma questa è una cosa che è stata pure smentita ieri da chi è stata attribuita a Matteo Salvini lo stesso l'ha smentita quindi non è bene ma la propria l'anticorruzione è ancora utile? una alla volta, non ho capito chiedevo se la preoccupa l'altro l'ha arrivato sulle esenzioni alla Russia non mi preoccupa perché come abbiamo sempre detto noi restiamo alleati degli Stati Uniti questo è un governo che vuole lasciare l'Italia negli accordi e nelle alleanze garantendo continuità quello che è già stato restiamo nella Nato, restiamo alleati degli Stati Uniti e portiamo avanti anche la nostra funzione di dialogo con paesi come la Russia come è sempre stato l'Italia storicamente ha avuto una funzione nell'ambito dell'alleanza occidentale, nell'ambito della Nato di essere un paese che dialogava con paesi dell'est con paesi come la Russia ma anche con paesi come quelli del Mediterraneo, del Nord Africa che poi oggi sono quelli che ci permetteranno di risolvere anche il problema dei flussi migratori la cosa che però deve essere chiara è che questo non sarà un governo supino alle volontà di altri governi e come vedete per ora è bastato dare qualche segnale sull'immigrazione e già hanno cominciato a rallentare sul regolamento di Dublino perché quel regolamento così riformato continuava a scaricare sull'Italia il problema dell'immigrazione adesso hanno capito che c'è un governo qui in Italia che non dice sì su tutto che non dice sì signore che è pronto a collaborare ma vuole collaborare negli interessi degli italiani e come vedete qualche risultato già si sta ottenendo perché qualche marcia indietro la stiamo vedendo per quanto riguarda i contesti internazionali non sono assolutamente preoccupato è sempre utile la domanda è sempre utile comunque dovete sempre tranquillizzare tutti e cambieranno grazie a tutti